quando entro in uno spazio che cosa cosa faccio cerco sicuramente di legarmici a questo spazio cerco di mettermi un po in scena forse capendo il contesto non voglio essere un camaleonte però vorrei essere in connessione con quello che sia un'immagine di una fotografia che devi creare che sia una mostra quindi uno spazio che devi far inabitare comunque ha una sua vita non è per sempre quindi secondo me la connessione con lo spazio è la cosa più importante così mi fa anche stare bene presente credo che tutti i sistemi un po che mi affascino sono anche quelli che voglio nutrire ma che mi nutrono a loro volta faccio anche lo scenografo quindi è un altro sistema ancora che mi chiede a cui io do lavoro appunto come scenografo per la pubblicità coinvolge un po tutto coinvolge un sistema di rappresentazione di messa in scena di un oggetto una mostra un'opera poi sono i contesti che magari danno una lettura vera e propria di quel tipo di situazione ma vorrei capire bene come sono stato tutto cupo tutto il tempo sicuramente mi direi ho capito ma mi direi di stare un po più dritto cercherei di capire da che parte guardare è un dietro le quinte la mia messa in scena è una de mise en scène quindi mi tolgo di mezzo per noi non 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 Grazie a tutti